Protesta di un massiccio gruppo di lavoratori dei cantieri di servizio, questo oggi a Palazzo del Carmine. Perché? No, il discorso è questo. Siccome molto probabilmente venerdì faranno la finanziaria, quel problema sono i tempi. Perché? È vero che magari lunedì cominceremo a lavorare, ma è anche vero che non pagheranno, cioè cominciano da 14 al 30. Naturalmente sono 16 giorni. Noi invece vorremmo che ci pagassero dal primo gennaio, perché noi abbiamo un retrattivo che parte dal primo gennaio. Questo discorso che pagano dal 14 al 16 o dal 15, quello che è quando cominciamo a lavorare, a questo a noi non ci garba. Molto probabilmente perderemo il mese, perché con i tempi che ci ripigliano a lavorare passeranno altri 15-20 giorni e a noi non ci sta bene. Che significa per voi questo? Come significa un danno pauroso? Perché io poi sono il primo ad andare alla solidarietà sociale, a pigliare tutte le bollezze e portarcele là e mi fanno i pagamenti loro. Avete chiesto di incontrare il sindaco? No, il sindaco non l'abbiamo visto. Molto probabilmente verrà. L'aspettiamo. Noi da qua in questo momento non ci muoviamo dall'aula gialla, perché vogliamo dei chiarimenti. Quindi rimarrete qui? Sì, molto probabilmente. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie.